Con le ricordi, in verità aspettavano qualche altro intervento prima di intervenire, ma quando si tocca a un momento tecnico non si deve attenzionare, non si deve attenzionare così. Bene, oggi ci apprezziamo, oggi ci apprezziamo a entrare nel caso del reticonto, con qualcuno spiegato che ci assunta che rendere conto della gestione è appunto un documento contabile che dimostra il risultato della propria gestione e del conto dell'amorità. E' vale di pensare una correzza di rischio di quelle che sono dei prodotti e pubblici locali. Il reticonto fa quindi informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, se il risultato economico e sui flussi finanziari e le reti locali. Il reticonto è un atto tecnico, ma che ha un risultato politico, che permette a noi, i consiglieri comunali, di andare a verificare e controllare quella che è stata la particolare gestione dell'organo eseguito. Si articola, il reticonto, il reticonto, perché sono i principi contatti, la sensibilità e la comunità delle strade delle spese, il principio della potenza, la relazione sulla gestione si è venerdata con la partecipazione attiva e la relazione del reticonto, ma indicato e migliorato, il grado dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia. E' bello dei consiglieri, ma noi dobbiamo studiare di più. Dobbiamo studiare di più, perché è una materia di programmazione di bilancio, perché non solo è una materia propresa, ma è una materia programmatica che va ad avvolgere le somme per la programmazione di interventi a fare il nostro testo. E quindi va anche nell'ottica di quello che noi riconosciamo delle commissioni consigliari primaveri per andare a programmare degli interventi che l'ultimamente, dico che l'ultimamente, i cittadini ci chiedono, e noi dobbiamo stare in quattro delle poste, ma con tutto il nostro imperio, io ringrazio il Presidente delle Commissioni, con tutto l'impegno che ci vedono, tante volte, tante volte, un imperio che non riesce ad ottenere cose fattive, cose concrete, questo è sempre un imposto, un po' burocratico, un po' burocratico, un po' burocratico, un po' burocratico. Dico questo perché il 28 febbraio del 2013, da una deliberazione numero 4 del 2013, l'attenzione delle autonomie della Corte dei Conti ha emanato quelle che sono delle liquidate per il controllo di investito, dando indicazioni precise a primo cittadino, alla cittadino cittadino. Cinque punti sono i casi, che vanno scontentando la istituzione fisicinale e le prese che si tratta sulla demoralità della cittadino amministrazione. Ci sono verifiche sui finanziamenti, esistenti controlli interni, verifiche sui risultati di gestione dei disperti del programma, verifica che il risultato informativo per i visibili finanziari contatti rilevare i connari costa netta di oggettivi della finanza pubblica e il consolidare di sostenibilità del naked e che gli organizzati non partecipano. Anche per dice la testa intercicolare, devono essere dietro il 30 al 59 e la dica prima, c'è. alle sezioni regionali della Voto dei Conti. Ed io personalmente non so se questo è stato fatto, ha sentito il segretario comunale verificato questa cosa, e questa cosa mi pone un po' inutile come non si prevede di tanto, anche se, anche se, personalmente, l'unica fiducia, insomma, che ha oggi questa giustificazione del bilancio è quella della giustificazione del codetto dei codici, che, in tutta la loro avvati, a traiuveri, inadegati, a cercare di essere a posto di tutto, riescono in qualche modo a darci garanzia, se non lo si tratta di solo le mani, a loro che sono già loro potenti, le responsabilità. Io non so se siamo qua a sollevare politiche o a dire quello che si deve fare, pensiamo qua a verificare quello che si deve fare per la nostra città è tutto quanto da bilancio, perché se c'è l'afforzamento di bilancio di intervento c'è la programmazione, se c'è la programmazione si possono dare risposta a te ma se non c'è talento di approcciamento economico con bilancio e questo l'abbiamo visto in questi anni con i trastetti, il Presidente della Terra e il Presidente lavoravamo a terra che era libera dei mali, al programma dei mali e delle opere mentre si sforzavamo di rilassarsi ai piatti che erano quasi un intervento meglio mentre si accattavano a città di tutti i classi, purtroppo siamo dovuti fermarsi che non accettavano risorse per finanziare la politica e quindi necessariamente si mangia quello che diceva fino al passo l'affetto politico, no? che per quando non pensi, diciamo, nel mondo tecnico se non c'è la politica, molte cose non si fanno vedi, più volte si è parlato di un avversalismo in base ma se sforzi voi pensate che il governo centrale dopo tutti questi giorni ha finalmente fatto della crisi di terra basta pensate che c'è un governo di responsabilità e responsabilità che però non deve essere molto tutta con un senso unilaterale a materia di intervento più forte che vanno vedendo qui e quindi io evito il presidente della proposta commissione potete a fare di più quello che sarà il bilancio di intervento tra l'altro che è autentico e anche una cosa, eh? perché là noi dobbiamo andare ad andare ad andare a tutti che sono veramente espressi, tutti i partiti, mafio la questione è dedicata ai creatori al 10 che la diceva, eh, come si è fatto dobbiamo andare ad andare ad accettare tutti quelli che tanti che si possono fare, si possono andare di ottica i grandi datori io ho detto che il gruppo è un trame che cugiamo che io voglio concludere l'analisi politica, già l'ho fatto ma se sei politicamente non ho senso di fare qua perché se lo sono stato al dato, il risultore della situazione troppo i cosiddetti La maggioranza non c'è, non c'è più di la sua, non c'è più di la sua. La risposta è la chiude che deve essere un risultato importante, non c'è più di la sua, 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 non c'è più di la sua. La maggioranza non c'è più di la sua, non c'è più di la sua. Grazie a tutti.